Oggi 7 ottobre 2019 qui al centro pastorale diocesano ex seminario regionale il rettore del pontificio seminario regionale marchigiano Pio XI Don Claudio Marchetti donerà la statua della Vergine Lauretana che verrà inserita nella cappella della vecchia sede di Fano. Quella più antica è ancora in Ancona ad accompagnare il percorso dei seminaristi. Nella ricorrenza dei 110 anni di fondazione del seminario regionale che ha avuto inizio proprio qui a Fano abbiamo pensato di ritornare alle origini. Queste le parole del rettore del pontificio seminario regionale marchigiano Pio XI Don Claudio Marchetti che nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre accompagnato dai seminaristi ha donato proprio al centro pastorale diocesano ex seminario regionale la nuova statua della Vergine Lauretana. Presenti il vescovo Armando, il vicario pastorale Don Francesco Pierpaoli e alcuni sacerdoti che hanno ricordato la vita in seminario. La statua sarà collocata nella cappella della vecchia sede. Quest'anno siccome ricorre il 110 anni di fondazione del seminario regionale che ha avuto inizio qui e adesso poi dal 1993 trasferito ad Ancona abbiamo pensato di ritornare un po' alle origini. Siccome nella chiesa, qui nella cappella dove era collocata l'immagine della Madonna di Loreto che ora noi conserviamo nella nostra cappella a cui non soltanto gli ex alunni sono molto legati ma anche le famiglie perché poi a questa immagine sono legati anche degli ex voto soprattutto nel periodo della guerra quando i seminaristi andarono al fronte e ci fu proprio un affidamento da parte delle famiglie e fecero quindi un voto chiedendo alla Madonna di custodirli. Quando poi la guerra è finita hanno donato una veste, hanno donato anche alcuni oggetti preziosi che noi conserviamo in seminario. Siccome questa nicchia da tanti anni, da quando il seminario dal 1993 è vuota allora abbiamo pensato di collocare questo segno, di donare questo segno. Non è la stessa immagine però ci sembrava bello ricongiungerci un po' con le origini. Lei oggi è accompagnato qui dai seminaristi, ci dà qualche dato? Cioè quanti sono i seminaristi al pontificio seminario regionale, da dove provengono? Sì, beh i numeri sicuramente non sono quelli che erano qui anche se già negli ultimi anni il numero era piccolo non si utilizzava più questa cappella perché oramai è troppo grande per il numero dei seminaristi ce n'era una molto più piccola motivo per cui poi si è pensato al trasferimento in una sede più piccola. Oggi la comunità del seminario conta 29 seminaristi provenienti da 11 diocesi ad eccezione del seminario di fermo che ha ancora il suo seminario arcivescovile e quindi ecco un po' queste sono le presenze di oggi una settimana fa sono entrati cinque ragazzi nell'anno propedeutico che poi faranno un anno di discernimento, poi il prossimo anno si aggregheranno continueranno il percorso, a Dio piacendo.